amici trevi meteo ben trovati parliamo di neve sta arrivando un'intensa perturbazione sul nord italia tra la fine di oggi e la prima parte di questo lunedì 28 nevicate anche piuttosto copiose interessano il nord italia soprattutto le alpi occidentali versante estero ma poi anche l'entroterra ligure l'emiglio occidentale tutta la lombardia e parte poi del trentino e del triveneto vedranno delle nevicate che saranno anche particolarmente abbondanti nelle zone disegnate in viola con accumuli fino anche a 25 30 centimetri di neve la stessa milano potrebbe vedere anche una spanna di neve non è poco nelle zone disegnate in blu qualche centimetro in meno ma tutta quest'area comunque sarà interessata da nevicate ripeto soprattutto nella notte tra domenica e lunedì e nella prima parte di questo lunedì ma per rimanere aggiornati capire quanta neve arriverà davvero scaricata l'app gratuita di trebi meteo